Copri fuoco e servizio all'aperto non hanno fermato le riaperture serali dei locali e dei ristoranti della città, che dopo diversi mesi di stop a causa delle restrizioni anti-covid, ieri hanno potuto riaccogliere anche per cena i propri clienti. Tendenzialmente è anche presto dire andata bene e andata male, nel senso che il ritmo di lavoro è sempre quello degli asporti. Adesso è il primo giorno, quindi la gente si deve anche abituare. Speriamo innanzitutto che cambino un po' le normative sul lavoro, cioè non lavorare solo all'esterno. Si stanno muovendo un po' di prenotazioni per il weekend, per le sere, ma anche il fatto di avere il copri fuoco alle 22 non aiuta, perché comunque tra chi stacca da lavorare a una determinata ora, viene al locale, deve mangiare velocemente, non si gode più l'atmosfera e la cena, il piacere di cenare. Speriamo appunto che almeno il fatto del copri fuoco almeno venga allungato in maniera tale da poter fare almeno una cena tranquilla, far passare una bella serata ai nostri clienti. Noi per tipologia di locale siamo aperti solo la sera, perciò noi diciamo che in tempi di pre-covid eravamo aperti, facevamo un orario 18, l'una, due di notte. Adesso abbiamo dovuto un attimo rivedere un pochino il tutto e a pranzo non lavoriamo e lavoriamo praticamente dalle 4, dalle 16 fino alle 22. Oggi è il primo giorno, è un test, dovevamo anche vedere un pochino come reagiva quella risposta della clientela, però possiamo dire che siamo stati soddisfatti come prima giornata di prova. Già domani c'è molti più prenotati. Quindi clientela che è arrivata qui con prenotazioni già da qualche giorno, visto che sapeva di una riapertura? Sì, hanno prenotato perché ovviamente abbiamo fatto una campagna con i social per comunicare l'apertura e tutte le tipologie di offerta che davamo. Abbiamo appena iniziato, ma comunque è logico che facendo solo fuori ho pochissimi posti, perciò sono molto penalizzato. Però intanto iniziamo in qualche modo, cerchiamo di iniziare ancora l'attività e piano piano di riprendere. A pranzo qualcosina abbiamo fatto, ma già questa sera la gente ce n'è pochissima, solo all'esterno. E ancora poi il tempo non è nemmeno tanto intulgente, perciò è stato veramente... Cioè era meglio non aprire o aprire un pochino più tardi, ma intanto vogliamo iniziare. Siamo contenti così, insomma. È stata una bella serata perché non vedevamo l'ora di andare a cena fuori. e appena abbiamo saputo che si poteva ritornare senza essere in uno spazio chiuso, abbiamo colto l'occasione di essere subito venuti a mangiare un po' di pesce d'Auldergo che conosciamo bene, insomma. Una bella serata che sa un po' di ritorno alla normalità piano piano. Speriamo, speriamo di sì, che speriamo che ritorni tutto come prima e si possa tornare a essere più liberi e a mangiare anche senza mascherine, come prima, insomma. E senza guardare l'orologio. Esatto, esatto, assolutamente, speriamo di sì.